Sono due i modi per uscire da una sconfitta importante, con il morale a pezzi e ridimensionati o più forti di prima con maggior consapevolezza dei propri mezzi. Questo è ciò che differenzia una squadra buona da una grandissima e la Venere in Bichini è l'emblema della seconda, fondamentali per voltare subito pagina all'ingresso dei nuovi acquisti come evidenzia Midulla nel post-gara. Io sono fiducioso con questi nuovi acquisti, pure con un terzo che dovrebbe arrivare si può vincere. La schiacciante vittoria contro una realtà di vertice come il pizza boom è una grandissima prova di forza di Eusebio e compagni che non mollano la presa sul duo di testa Checco Eurobet, trascinati dalla solita doppietta di Nico Borsci. La prossima contro il BMD Gianicolo, una squadra ostica, anche lei come voi si è rinforzata, che partita vi aspetti? Sì, è stata la mia prima partita al giorno d'andata, l'abbiamo vinto mi sembra abbastanza bene, penso che si può vincere, non temiamo nessuno. La Venere ricomincia quindi subito la sua rincorsa, la reazione da campioni c'è stata. Grazie.